Guardando questo video mi sono chiesto se si può davvero cancellare l'evidenziatore con un limone Ho preso l'evidenziatore, un limone e un quaderno Poi ho tolto il tappo, ho evidenziato e ho spremuto il limone Successivamente ho strofinato prima con una e poi con due dita Vuol dire che non ha né funzionato né non funzionato